cosa successe nel 753 avanti cristo in italia nel 753 avanti cristo in italia nascerà una piccola città che sarà destinata a governare tutto il mondo a quel tempo conosciuto si tratta di roma il 21 aprile 753 avanti cristo verrà fondata a roma che pian piano allargherà il suo territorio al punto da conquistare un territorio vastissimo e sarà destinata a governare uno degli imperi più grandi della storia ciao al prossimo video vi aspetto ciao 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 ciao